Tanta paura, ma fortunatamente nessuna seria conseguenza. Protagonista della disavventura, una cagnolina di razza Jack Russell, che nel tentativo di passare attraverso le sbarre delle inferiate dell'abitazione di Reccione in cui vive con i suoi padroni, è rimasta incastrata. Inutili i tentativi di liberarla, anche per via dell'agitazione dell'animale. E così, intorno alle 13.30, è scattato l'allarma ai vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti con una squadra. Qualche momento di preoccupazione per la cagnolina, quando lo strumento, usato dai vigili per allargare le inferiate, è partito con un forte rumore. Poi però, la felicità per la liberazione e la corsa in casa, alla ricerca del meritato relax, dopo una mattinata decisamente stressante.